Basta aiutare i bambini poveri, basta, 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 sono anni che aiutiamo i poveri e cosa abbiamo ottenuto che a forza di aiutarli siamo diventati poveri anche noi, noi poveri abbiamo rotto il c***o, noi poveri abbiamo rotto il c***o ancora che abbiamo da chiedere, da lamentare, ma cosa, cosa, noi poveri siamo la maggioranza, il 99% abbiamo conquistato il mondo, cosa vogliamo di più? I soldi, ve li ricordate i soldi? Quanti ricordi eh? Che si mettevano nel portafoglio, pure in tasca, vi ricordate? Poi i soldi hanno di due tipi, se vi ricordate, se siete grandi abbastanza per ricordarvi, i giovani non li hanno mai visti per esempio, i soldi erano di due tipi, c'erano quelli di carta e quelli di metallo, le monete, eh? Che con i soldi ci si compravano le cose, vi ricordate? Che poi i soldi se ne davi di più, hai diritto al resto, che hanno sempre soldi, ma di meno! Che poi i soldi te li davano se facevi quella cosa, come si chiamava? Oddio, famosa, come si chiamava? Eh? Lavoro, eh? Come fate fatta a ricordarvelo? Lavoro, bravi, lavoro! Tu lavoravi e loro in cambio ti davano i soldi, vi ricordate? Che forte che era, no? Che a dirlo oggi sembra una cosa, invece all'epoca tutti bravi! Scusatemi, che quando parlo di soldi io divento nostalgico, e sarà l'età, io ho 38 anni, e faccio parte di quella generazione che vivrà peggio delle precedenti pur campando di più, oltre il danno la beffa, Non avrò mai un lavoro sicuro, né uno stipendio fisso, e non vedrò mai una pensione. Se permettete, mi piange un po' il culo.